Siamo a caccia con un conduttore professionista, con uno dei più bravi, lui è Stefano Girandola, noto come dresser dei pointer, lui soprattutto conduce con. Lei è una cagna che è già campione italiana, internazionale, trailer, ha vinto il campionato europeo, la ricerca. Ce l'abbiamo sotto, eh Stefano? Brava Cleo, brava, vieni, 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 brava Cleo, brava, brava. Vi presento mio padre, è un legno di Angela, io Maria, mi fa molto piacere, mi fa molto piacere, questa è la giga, è stato il cane che è sempre avuto, veramente. Grazie a tutti.